Sono cinquant'anni oggi e niente, diciamo che è volata, ma non è volata perché sono cinquanta, sono tanti, cinquanta, cinque è il mio numero preferito, quindi cinquanta, dieci volte cinque dai. Adesso andiamo a cambiare, la Dada mi ha regalato un paio di scarpe eleganti, forse sono larghe, andiamo a vedere, provare altri cento paio, poi niente, questa sera cena, anche se sono pieno, stasera mangia poco, cioè io mangia poco, la Dada ha uno stomaco infinito, io quello che abbiamo mangiato a pranzo ancora è un mili in su, quindi stasera mangia un po' di pisciolino, senza primo, primo no perché non ce lo faccio. Alla fine è leggero. Grazie. Grazie.